Primo comune italiano rifiuti zero certificato in Europa. E' questo il riconoscimento a cui Punta Capanno era in occasione dei primi 15 anni di adesione alla strategia per lo smaltimento di immondizie e scarti nel segno della sostenibilità ambientale. La certificazione rilasciata dalla Mission Zero Academy sarebbe per l'amministrazione e per i suoi abitanti un premio all'impegno portato avanti sinora. Basti pensare che la raccolta differenziata è passata dal 38,63% dei primi anni 2000 all'86,5% dello scorso anno. Un bilancio di questi 15 anni di risultati importanti con percentuali di raccolta differenziata tra i primi a livello europeo sopra l'88% ma soprattutto poi dei risultati anche da un punto di vista economico, occupazionale e ambientale. Tante le buone pratiche che fanno di Capannori un modello virtuoso a cui guardare a livello internazionale. Oltre 4.000 tonnellate di carta riciclata hanno permesso di salvare 12.000 alberi, 5.000 tonnellate di scarti da cucina sono state trasformate in terriccio per concimare e 2.000 tonnellate di vetro raccolte sono servite per realizzare 4 milioni di nuove bottiglie. Per questo ringraziamo i cittadini per aver aderito in quelle che sono state le proposte negli anni dell'amministrazione e questo lo vogliamo anche celebrare questo compleanno a parte con alcuni eventi, alcuni momenti anche di condivisione con la cittadinanza anche con la richiesta della certificazione europea rifiuti zero. Gli esperti della Mission Zero Academy saranno a Capannori alla fine del mese di giugno per verificare i risultati e le azioni in campo ed esprimere una valutazione di merito.